Cari navigatori di olio e vino e peperoncino, siamo in Sicilia, ma veramente non siamo in Sicilia, siamo a Rimini, al Sol, la fiera degli oli extravergine d'oliva e siamo in compagnia però di un siciliano. Si dice chi sei? Salvatore di Genova, dell'azienda Baglio in Gardia, sita in Trapani, a 5 km da Trapani, le pieti del Monteggio, la nostra è un'azienda toccata a doppio, cosa illustro per sommi capi la storia, tutto è partito dal mio bisnonno Salvatore, dal mio bisnonno che ha creato questa bellissima azienda, io sono la quarta generazione per essere preso. Ma i vostri oli? Allora, abbiamo quattro tipologie di oli, una vasta gamma che solo i produttori possono permettersi. E allora, partiamo da un olio certificato che è la DOP Valli Trapanesi, definito uno tra i migliori dal mondo sia per l'ubicazione della denominazione che per la qualità accertata. Poi abbiamo il blend, che è un'unione di più cultivar, più precisamente di tre cultivar, Cerasuola, Nocellara e Biancolilla, sono tutte varietà autottone quindi del luogo, che sono praticamente nella nostra ditta. Poi abbiamo la Cerasuola, che è un olio costituito, praticamente un monocultivar, e poi abbiamo la Nocellara, che è un altro monocultivar molto importante.